cari amici di visione tv benvenuti al nostro nuovo appuntamento sono felice di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi è tornata dea ciao da israele ciao dea ciao francesco ciao a tutti bello rivedervi è bello anche per noi in israele in questo periodo sono successe tante cose ecco tu sei stata importantissima per il nostro pubblico per spiegarci nei mesi peggiori della pandemia come israele fosse il centro diciamo di un'evidente cospirazione che puntava a sovvertire l'ordine delle cose cavalcando paure ed emergenze in maniera chiaramente artefatta israele è stato un laboratorio dea tutto quello che è stato testato diciamo sulla popolazione lì è stato poi diciamo diffuso dappertutto sei sempre più convinta di questa tesi ti ricordi eravamo sempre sei mesi almeno avanti rispetto all'europa quello facevano qui poi veniva dopo arrivava in italia sei mesi di ritardo e quindi qui è finita già da parecchio qua pantomima pandemenza non so come la vogliamo chiamare è finita già da diversi mesi è finita nel momento in cui hanno tolto l'obbligo delle muse ruole poche ore dopo ha ripreso tutto come prima e diciamo che il terrorismo islamico il jihad la guerra con i palestinesi è finita nel momento in cui iniziata la pantomima e abbiamo avuto il periodo più lungo penso di pace con i palestinesi durante questo periodo non ci sono stati più attentati non c'è stata più la guerra poi finita la pandemia quindi tolte l'obbligo delle mascherine dopo poche ore è cominciato qui tutto come prima gli attentati terroristici anche qualche giorno fa ne abbiamo avuti due a gerusalemme proprio gli stessi servizi come dei fotografici le stesse immagini stesse parole nei media la radio io penso che uno potrebbe addirittura scambiare questi articoli degli anni precedenti e non vedi nessuna differenza c'è proprio ritornata la routine è stato in questo periodo una bolla di pausa ecco e poi è ricominciata la solita vita qua uguale e fra le altre cose della routine abbiamo avuto di nuovo lo stesso presidente primo ministro è stato rieletto a furor di popolo ancora una volta bibi netaniao cominciamo cerchiamo di approfondire meglio il primo aspetto che israel è stata una chiaramente un laboratorio dove per mesi per anni hanno imposto prime seconde terze quarte dosi la logica del green pass è partita da lì tu ci dici adesso è svanito tutto all'improvviso nessuno si ricorda di nulla nessuno torna su quelle questioni ma ci sono dei politici dei singoli degli intellettuali che chiedono conto di quanto combinato e pretendono giustizia oppure è stato messo tutto a tacere ma guarda qui ti ricordi qui a differenza dell'europa dove c'è stata una forte resistenza comunque no qui a parte qualche gruppo di ultra ortodossi lo sai c'è stata un'adesione quasi totale della popolazione a questa narrativa poi la quarta dose è stato un flop perché le persone sono tutte ammalate più volte almeno di covid se non poi diversi effetti collaterali si è decantata la cosa con la quarta dose sono stata pochissimi israeliani che sono tornati a farsa e poi da lì come se non se ne parla più cioè si parla il petto si è ripreso il programma di prima come se tutto accantonato così non sono qui hanno messo tutto sotto la polvere sotto il tappeto ma diciamo il mondo io guarda io malgrado tutto devo dire la verità mi godo la fine di questo orrore perché comunque è stato un inferno cioè malgrado tutto di poter essere ritornate a un minimo di normalità insomma di poter viaggiare spostarti fare una vita insomma è comunque intanto voglio godermi ecco questo questo periodo proprio cioè brindare anche una nostra vittoria no dopo tanta sofferenza tante fatiche comunque vedere che sia si sia smontata questa farsa in qualche modo e che non ce l'abbiano veramente fatta andare fino in fondo insomma è comunque una vittoria di cui secondo me ci dobbiamo rallegrare ecco anche perché tu avevi subito delle ripercussioni anche personali mi ricordo quando venivi da me abbia fatto numeri impressionanti con alcune interviste poi ricevevi vere e proprie minacce da chi ti accusava di puntare il dito contro israele addirittura perché antisemita solo per avere denunciato la farsa pandemica insomma mi ricordo questo clima di violenza proprio nei tuoi confronti sì no ma è stato orribile questo periodo è stato veramente un inferno proprio tutti i punti di vista però non so è come le persone anche dimenticano in fretta qui qui tutto finito quindi siccome il protocollo noi abbiamo sempre visto siamo sempre sei mesi avanti probabilmente anche in italia fra tre sei mesi sarà come qua magari appunto anche c'è il piano anche lì piano nuovi piani sai c'è la guerra c'è l'emergenza climatica c'è l'emergenza insomma ci sono altre modalità però direi che qui finito non credo non credo neanche che che possa più attecchire nuovamente perché è stato un fallimento le persone ci hanno veramente creduto in questi in questi sieri si sono ammalati tutti comunque di covid per almeno una volta se non due tre volte quindi difficile è riconvincere le persone ecco dopo aver avuto tanta fede in questo siero miracoloso no senti idea tu hai detto una cosa interessante finita la farsa pandemica siamo ritornati a vivere sotto la pressione del terrorismo che si era interrotto forse proprio in osseguio a al rispetto dei delle regole per il vaccino come se i terroristi insomma fossero interessati a rispettare le ordinanze ecco questa considerazione secondo te significa che tutto diciamo un gioco controllato dalle stesse forze che aizzano emergenze diverse per tenere sotto pressione alla gente guarda noi sai siamo complottisti terapiatisti quindi noi vediamo tutto sotto l'ottica del complotto però evidente che non c'è nessuna correlazione è un puro caso no che è finito tutto il terrorismo è la guerra nel momento incominciata la pantomima finita la pantomima ripreso tutto come prima però è un caso ovviamente siamo noi che vediamo siamo noi che abbiamo lo sguardo distorto ma sicuramente un caso io non ho idea però francamente io già prima non ci ho mai creduto in anche nella nata attiva qui sai né né alla propaganda filozionista né la propaganda pro palestinese perché le propagande sono sempre delle alterazioni della realtà quindi io non sono sempre stata al di fuori di questa anima però diciamo che questa coincidenza puramente casuale di eventi ti fa ancora più pensare che insomma non è proprio tutto come ce ne raccontato dai media ecco senti idea qual è la situazione il dibattito interno in israele rispetto ai rischi geopolitici perché vediamo che ci sono dichiarazioni contrastanti israele sembra un po' vicino all'ucraina poi sembra volere invece avere buoni rapporti con la russia c'è un dibattito lì rispetto a quello che accade guerra ma allora io penso che israele penso poi sai non è che io sto sempre a seguire la politica perché ho delle cose molto più interessanti da fare nella vita però diciamo per quel poco che sento e che vedo e che israele cerca di mantenere una posizione un po neutrale perché perché una grossa fetta della popolazione di israeliana è composta da russi e da anche da ucraini qui ci sono ebrei che sono sia venuti da dalla russia che dall'ucraina quindi ci sono israeliani che hanno la famiglia sia da una parte che dall'altra e quindi capisci che è difficile prendere una posizione quando hai con una grossa fetta della tua popolazione implicata no a livello anche proprio di legami familiari molto difficile per di più zelensky lo sai ebreo quindi eppure ci sono anche tantissime relazioni come dire molto anche penso positive con la russia quindi è difficile credo che israele cerchi infatti se non sbaglio tempo fa anche stato mandato un fatto un tentativo no di mediazione israele fra l'ucraina e la russia senti intanto è tornato al potere un uomo che sembra immarcescibile bibi netanyahu sembrava finita la sua carriera politica e se lo ritroviamo di nuovo puoi spiegare la rinascita di quest'uomo ma guarda dico io sto proprio leggendo un altro un altro libro sull'argomento guarda proprio sto leggendo questo gustavo lebon psicologia delle folle sto proprio tentando di capire questo film questo fenomeno perché continua a ripetersi nella storia e quando ingenuamente si si mette no si divide il tiranno dal popolo ah io sto la parte del popolo ma non si è compreso che il popolo il tiranno sono legati in maniera scindibile da una complicità reciproca perché il tiranno è il popolo che lo crea e che lo vuole quindi studiando proprio la psicologia delle masse che troviamo in tutta la scuola psicoanalitica sono stati analizzati a fondo queste dinamiche della delle folle della massa queste dinamiche del branco di gruppo e continua a ripetersi c'è proprio veramente qualcosa di atavico che contiamo a riprodurre in maniera automatica sempre in tutte le forme e in ogni società in ogni gruppo sempre le stesse modalità quindi andare a studiare come funziona ti rendi conto che siamo siamo ancora lì siamo ancora indietro se ti ricordi tempo fa in un'intervista ti avevo detto francesco per me è finita l'era dei leader ti ricordi dei dei guru dei tiranni invece rendo conto che vorrei che fosse finita rendo conto che le persone sono ancora lì hanno bisogno del guru e poi non solo hanno bisogno del tiranno e del dittatore o comunque di questa figura ma hanno bisogno del leader quello proprio che esercita l'autorità con durezza cioè quello che dimostra di essere il più forte cioè le folle cercano sempre il leader più forte che li sottomette a cui obbedire a cui dare prestare devozione cioè cioè queste sono dinamiche contiamo a ripetere nelle società è proprio un film come dire un si ripete che si ripete che si ripete qui appunto sembrava tutto finito e invece rivolgono lui perché perché insomma ripeto ma è alla scuola psicanalitica analizzato questo fenomeno del padre padrone bisogno della folla la folla sai che è l'annullamento della ragione dell'individuo cioè l'uomo l'individuo dentro la folla perde il senno e poi si sente legittimato a compiere qualsiasi cosa perché non ha più la responsabilità personale quindi ad esempio gustavo lebon dice giustamente che l'individuo sarà sempre superiore moralmente superiore alla folla perché ogni individuo prendo spreso singolarmente è diverso nel momento in cui si fonde in maniera anonima nella folla e fa parte di questa forza brutta irragionevole irrazionale mossa solamente dalle forte emozioni che poi sono sempre emozioni molto brutali molto aggressive e questo si ripete il fenomeno di bibi netanyahu proprio esattamente quello ma è quello che c'è in tutte le altre nazioni rispetto a questi leader autoritari è quello che vogliono le persone ma come volevano anche itler volevano stalin volevano maiozze tung eccetera eccetera senti idea io non mi rendo conto di come sia possibile che siamo questo cambiamento così repentino c'è da nazione più terrorizzata dal covi da nazione dove tu stai dicendo non si non se ne parla proprio c'è un problema proprio completamente rimosso ma in questo momento nessuno parla più dei contagi del non tengono più la gente la gente parla solo di cui quello parlano sui media mi stream non hanno la gente la folla non ragiona non riflette quello che gli viene detto in maniera indotta lo accettano alla televisione non se ne parla più la gente parla più ma guarda che così è francesco e bisogna appunto studiare bene le dinamiche della folla per capire io infatti guarda quello su cui io sto lavorando ormai da una vita da tanti anni anni però adesso in questo periodo un anno e mezzo che proprio ci sta lavorando in maniera molto molto assidua bisogna tentare di creare un modello di società fondata sull'individuo perché ogni volta che noi riconduciamo qualsiasi dinamica della società alla massa la folla al gruppo ritornano le dinamiche del branco ritornano queste dinamiche in cui la folla anonima questa forza bruta ha bisogno di chi la guida in maniera autoritaria e chi gli dice cosa deve fare e siamo sempre lì quindi secondo me secondo me bisogna veramente cominciare a riflettere su come si possa organizzare una società fondata invece sull'individuo e non sulla folla sul gruppo sul popolo il popolo è questa cosa qua e tanto è vero che forse perché è manipolato come prima ben dicevi tu insomma purtroppo manipolato dai mezzi di informazione quindi forse la battaglia dovrebbe essere prima comunicativa senti ma sul caso miocarditi sul caso degli effetti avversi cioè non ci sono commissione d'inchiesta non c'è nessuno che protesta non si dice niente ci sono stati dei documenti come dire delle scientifici degli studi che sono stati fatti ma poi è come dire tutto qui non se ne parla più non so come dire come un qualcosa adesso noi adesso si parla del terrorismo dei palestinesi si riparla degli attentati si vedono mascherine ancora in giro ma qualche covidiota sai quello c'è però dico ma se tu devi andare domani in un luogo pubblico nessuno ti chiede la mascherina in ospedale no 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 qui non c'è più niente da nessuna parte no qui non c'è più il green pass è stato abolito in ogni ambito per alcuni aspetti rimane e non c'è qui è finita c'è quella diciamo sia che con chiamarla diciamo quel protocollo quella scena non è rimasto proprio niente non è rimasto niente nulla nessun obbligo nessuna restrizione no nulla no ma io sono felice di questa cosa è perché perché tu sai che in italia ancora oggi per andare in ospedale ci vuole la mascherina ci vuole per l'andare sei mesi indietro voi siete sei mesi indietro giusto sempre sul protocollo quindi fra sei mesi sarà così anche in italia come sempre stato cioè suppongo che finirà anche lì finirà anche lì qui è finita ti dico ad esempio è ritornata la minaccia della bomba atomica dell'iran c'è la minaccia della guerra sempre questo quest'ansia di dire a forse israel attaccherà l'iran e se si attacca l'iran e si scoppierà la guerra e ci sarà la bomba atomica adesso è ritornata qui la la quello che era prima della pantomima uguale la minaccia dell'atomica del del iran quindi sempre sempre su questo filo del rasorio che forse israel l'attacca e forse non attaccano loro prima sono anni che stiamo andando avanti su su questo filo del rasoio e poi gli attentati come qui è la routine normale attentati sono stati proprio due tre giorni fa due è successo due tre giorni fa puoi raccontare al nostro pubblico cosa è successo attentati alla fermata degli autobus vicino alla stazione centrale gerusalemme una bomba attentati kamikaze o attentati diciamo con mezzi più tradizionali no no questa non so era una bomba perché hanno hanno ucciso il terrorista diciamo così e poi 18 19 persone all'ospedale tre in condizioni gravi insomma le bombe che mettono così alle fermate degli autobus ecco ma la situazione sul piano dei rapporti con i palestinesi è sempre tesi ma guarda io lo sai che ti dico io vivo quantissimi anni proprio ieri l'altro è stata una città vecchia stata al su carbo in mezzo ai palestinesi non so io sono tanti anni vedo che nella vita quotidiana tutti i giorni c'è abbastanza sono dei rapporti abbastanza tranquilli poi vabbè chi più chi meno ci sono sempre i fanatici però ma secondo te c'è chi ha interesse in israele a soffiare sul fuoco del terrorismo per ragioni di controllo interno qua cosa penso meglio che non lo dico però diciamo che non credo alla narrativa né ripeto né quella filozionista né anche quella pro palestinese ecco cioè allora te lo dico io cosa penso io penso che ci siano dei mondi gli stessi che fomentano gli opposti estremismi che servono a entrambi cioè io penso che ci siano realtà che manipolano sia il popolo palestinese che il popolo israeliano per mantenere il rispettivo potere sulla base di un'emergenza che si prolunga secondo te è vera questa lettura o no? Allora noi ripeto che siamo completisti terrapiattisti immaginiamo che ci sia una regia dietro sì immaginiamo che ci sia una regia che queste cose non so come dire ci sono ma secondo te il pubblico la pubblica opinione israeliana il dubbio che una parte del terrorismo arabo venga fomentata da apparati di sicurezza interni per ragioni di controllo ce lo può avere o non ce l'ha assolutamente? Ma no ma qui la gente crede quello che dicono in televisione come da voi come ovunque ma figurati ma la gente non riflette ti dico mi sto leggendo sto trattato sulla psicologia delle folle e capisci i meccanismi capisci veramente i meccanismi? E dico però dopo tanti anni che abbiamo visto pure in Italia oramai una serie di libri di inchieste spiegano che delle operazioni del terrorismo degli anni 70 penso ai libri di Fasanella ma non solo erano tutte infiltrate dagli apparati di intelligence diciamo di diversi paesi possibile che la pubblica opinione in israele non abbia contezza minimamente che esistano questo tipo di manovre qui credono nel governo pensano che il governo come dire si occupa del bene dei cittadini si fidano è una grande fiducia una grande fiducia nel governo quindi credono nelle versioni ufficiali neanche mettono in dubbio che ci possa essere ma no figurati anzi passi veramente per complottista ti dicono che sia un complottista perché la gente crede crede a tutto quello che viene detto in televisione appunto e questo veramente il potere della propaganda se tu non so rispetto alla prima seconda guerra mondiale è molto più ormai siamo la tecnologia così raffinata così avanzata che visto che che lavaggio del cervello che hanno fatto 24 ore su 24 a martello quindi hanno un potere di persuasione enorme ma la stessa diciamo giorgia meloni che poi fra l'altro il parrucchiere ieri mi ha fatto proprio i capelli come giorgia meloni si è bloccata la tua immagine ti sentiamo ma non ti non ti muovi più vediamo se riesci a riaccendere la telecamera ecco adesso ti vediamo dicevi ti ha fatto i capelli come giorgia meloni però ti stanno meglio di lei non so se allora adesso no no ma dico che questo taglio dona più a te che a lei scusi scusi ma lei mi vuol dire che io sto tre passi detto l'omini mi vorrà dire e beh no ho fatto i capelli ma giorgia meloni sì magari ti candidiamo come premier alle prossime elezioni ma la giorgia meloni no la giorgia meloni in tutto il mondo durante il periodo della campagna elettorale della campagna elettorale non dopo dici quando è stata eletta che vabbè no prima durante la campagna elettorale cioè tutte le riviste del mondo hanno messo la sua foto in copertina cioè ovunque si vedeva giorgia meloni ne ha parlato il mondo intero durante il periodo dell'elettorale quindi dici ma insomma e se ne parlava io mi ricordo in periodo di campagna elettorale se ne parlava cioè ma l'hanno messa dappertutto in prima copertina ovunque c'era solo lei allora qui ma ci siamo chiesti ma c'è veramente l'intenzione che salga lei al potere perché capisci fare una tale pubblicità solo a questo personaggio e non solo in Italia ti parlo nel mondo intero ne hanno parlato tutti i paesi avevano sulla copertina la foto di Giorgia Meloni e poi ti dici ma come mai tutto questo focus questi riflettori appuntati su un unico personaggio e lì secondo me c'era evidente il tentativo di influenzare l'opinione pubblica comunque non credi ma forse era un caso anche quello no no ma è chiaro che insomma c'era l'interesse a dirottare il dissenso verso quell'area che poi come al solito finisce per normalizzare sì però non lo so però capisci sono tutte coincidenze che ripeto noi completisti pensiamo però sono dei casi io non credo molto io non credo alle coincidenze credo alle pianificazioni che vengono mascherate no però vedi anche ad esempio tantissime persone poi della resistenza effettivamente hanno votato Giorgia Meloni anche tantissime poi vabbè e questo ha distrutto la nostra aria la nostra aria è stata fagocitata in buona parte da da Fratelli d'Italia che ha tenuto un doppio profilo un'ambiguità che ha premiato Giorgia Meloni e il suo partito ma poi un'altra al governo come tutti gli altri hanno subito gettato la maschera va bene comunque dimmi Dea volevi dire qualcosa in conclusione di questo intervisto sì volevo così così visto che da tanto che non ci sentiamo così dare due notizie su quello che sto facendo adesso un anno e mezzo sono un po' scomparsa perché sono molto molto impegnata stiamo lavorando la progettazione della Regia dei Sovrani c'è tutto questo progetto che sono 12 anni su cui lavoro che poi oltre ad essere un progetto molto rivoluzionario a livello proprio di progettazione architettonica eccetera vorrebbe essere il tentativo anche di un modello di società diverso più avanzato e come ti dicevo fondato sull'individuo certo è una cosa molto impegnativa però anche entusiasmante e molto probabilmente spero almeno stiamo avanzando la richiesta vorremmo fare la presentazione ufficiale alla Regia di Caserta in occasione del 250esimo anniversario dell'architetto Van Vitelli quindi magari poi così terremo aggiornati su questa cosa comunque se qualcuno è interessato a questo lavoro stiamo portando avanti ecco inviterei a contattarmi privatamente insomma comunque abbiamo un sito abbiamo fatto un sito recentemente reggedeisovrani.com se chi vuole saperne di più insomma può contattarmi in ogni caso Francesco volevo dirti vai avanti coraggio penso che l'unione sia molto importante fra tutti noi che comunque in questo periodo storico terribile ci siamo battuti e siamo anche i soli testimoni perché adesso io penso alle generazioni che verranno dobbiamo raccogliere fare degli archivi raccogliere tutte le testimonianze perché fra un po' di anni non ci sarà più niente di quello che abbiamo passato e vissuto quindi credo che è importante anche che cerchiamo di come dire di mantenere viva la memoria di quello che è successo perché vedrai che non ci sarà più traccia fra un po' bisognerebbe ci penseremo noi a tenere viva la memoria affinché non si ripetano alcune sconcezze grazie ed è sempre un piacere averti con noi grazie speriamo di rivederti presto grazie saluto tutti ciao cari amici di Visione TV grazie per averci seguito anche oggi è un periodo questo particolare per Visione TV abbiamo bisogno del vostro sostegno ora più che mai donate ai numeri che la regia ha mandato in sovraimpressione tramite Bonifico tramite Paypal ancora meglio io invito tutta la comunità di Visione TV a stringersi intorno a noi in questo momento più difficile e più delicato andando sul nostro sito www.visionedv.it e abbonandovi cioè concedendoci un sostegno mensile fisso anche di pochi euro è importante per tenere botta adesso che tutto insomma il fuoco della reazione si sta concentrando contro di noi adesso chiudiamoci al riccio e difendiamo la realtà che con passione fatica e costanza abbiamo costruito insieme grazie ancora una buona giornata